Buongiorno a tutti, ho accolto con piacere il vostro invito e sono rammaricata di non poter partecipare in presenza a questa importante giornata, la 22esima giornata europea della cultura ebraica che oggi si celebra in 108 località del territorio nazionale attraverso iniziative e eventi promosse e coordinati dall'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e alla quale quest'anno aderiscono ben 35 paesi in tutta Europa. Diffondere la conoscenza della storia, della cultura e delle tradizioni dell'ebraismo, aprendo le porte delle sinagoge e dei musei ebraici attraverso incontri d'autore, spettacoli, degustazioni è una scelta felice nella prospettiva di favorire la comprensione, il riconoscimento e l'accettazione reciproca. La conoscenza unitamente al dialogo sono gli antidoti più efficaci contro ogni forma di discriminazione e di odio. Tutti i comportamenti accomunati da una matrice di odio, nei confronti di chi è diverso per razza, religione, orientamento sessuale, affondano le proprie radici nel pregiudizio, nella paura dell'altro, nella chiusura mentale e nell'ignoranza. Sotto questo profilo l'antisemitismo continua a essere una minaccia attuale che viola i fondamentali diritti umani, di dignità, di libertà, di religione, di credo e di eguaglianza. Lo dimostrano le correnti di pensiero che ancora oggi negano l'uguaglianza degli ebrei, mettono in dubbio l'olocausto e lo dimostra il tributo di sangue pagato all'odio antiebraico dall'Europa a seguito degli attacchi nel recente passato al museo ebraico di Bruxelles, all'ipercacer di Parigi, alla sinagoga in Germania. Lo dimostrano infine nel nostro paese i dati forniti dall'osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori, l'OSCAD, che registrano 91 casi di reati d'odio di matrice antisemita nel 2019 e 212 nel 2020. L'antisemitismo, nelle sue diverse articolazioni e manifestazioni, è una piaga drammaticamente ancora aperta che attraverso il senso di paura e di costante insicurezza che in genera nelle comunità ebraiche a livello individuale e collettivo ne mina le fondamentali libertà di coscienza, di religione e di espressione della propria identità e della propria cultura. Riconoscere e contrastare le manifestazioni di odio di matrice antisemita e far fronte alle esigenze di sicurezza delle comunità ebraiche è una questione trasversale che coinvolge non solo tutti i livelli di governo ma anche la società civile e le stesse comunità ebraiche. La lotta all'antisemitismo in tutte le sue manifestazioni, in incluse quelle online, particolarmente allarmanti in una società sempre connessa a qual è quella contemporanea, richiede un approccio e uno sforzo globale. Accanto all'impegno delle istituzioni e delle forze di polizia è essenziale il coinvolgimento responsabile e attivo dei fornitori di servizi internet per la pronta rimozione dei messaggi di incitamento all'odio e dei contenuti terroristici illegali e del mondo della scuola e dell'informazione. L'istruzione e l'informazione in materia di olocausto, antisemitismo e vita ebraica, è importante ribadirlo, rimangono gli strumenti più importanti per prevenire pregiudizi e manifestazioni di odio e di intolleranza. Questo sforzo collettivo non può tuttavia prescindere da un costante ascolto, scambio e confronto propositivo, in una parola non può prescindere dal rapporto di dialogo con le comunità ebraiche. In tale prospettiva si muove la strategia europea contro l'antisemitismo presentata dalla Commissione il 5 ottobre scorso, per la prima volta nella storia delle istituzioni euronitari, che definisce in un'arte temporale decennale una serie di azioni incentrate su tre pilastri, prevenire ogni forma di antisemitismo, incoraggiare e proteggere la vita ebraica in Europa, promuovere attività educative e di ricerca dedicate alla memoria della Shoah. Nella stessa prospettiva di approccio globale e confronto con le comunità ebraiche, il Ministero dell'Interno orienta la propria azione. Ricordo sotto questo profilo l'impegno dell'OSCAD, istituito proprio per rispondere alla domanda di sicurezza delle categorie vulnerabili, potenziali vittime di crimini d'odio, diretto ad agevolare la denuncia e l'emersione dei reati di matrice antisemita e a sensibilizzare e formare gli operatori delle forze di polizia al loro riconoscimento. In questi ambiti di attività la collaborazione dell'OSCAD con l'Unione delle Comunità Ebraiche in Italia e con il Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea ha condotto a lusinghieri risultati in termini di conoscenza, prevenzione e contrasto dell'antisemitismo. E faccio riferimento anche alla realizzazione di una guida all'ebraismo per gli operatori di polizia che è un utile strumento per contrastare i fenomeni di scarsa denuncia perché purtroppo sono troppo poche le denunce o mancato riconoscimento dei reati di odio alla definizione di modalità standardizzata e di scambio di informazioni non solo sui crimini ma anche su quegli atti di matrice antisemita che pur non oltrepassando la soglia della rilevanza penale in generano tuttavia grandi preoccupazioni e insicurezza nelle comunità e dunque richiedono la massima attenzione da parte delle forze di polizia anche quali possibili precursori di veri e propri crimini. Non meno importante è la collaborazione sviluppata da questo Ministero con le comunità ebraiche sul piano informativo e divulgativo. Cito per tutte la partecipazione dell'Oscar nel 2020 all'iniziativo Viaggio della Memoria organizzata dal MIUR e dall'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane per diffondere la consapevolezza e rafforzare la memoria dell'Olocausto e le iniziative che ogni anno in occasione della giornata della memoria questo Ministero promuove in collaborazione con le prefetture è sempre una prefettura diversa e con i rappresentanti delle comunità ebraiche. Anzi, rammento che proprio io quando ero prefetto di Milano organizzai un bellissimo convegno e molto interessante proprio all'Università Cattolica con la partecipazione di tutti gli studenti perché ritengo che la memoria vada mantenuta viva soprattutto tra i giovani. E nella convinzione che la via italiana alla prevenzione e al contrasto dell'antisemitismo saprà attrarre un nuovo impulso e l'infa vitale dalla presa di coscienza europea della rilevanza sovranazionale del fenomeno ritengo che davvero questa iniziativa sia importante e quindi rinnovo il plauso per questa giornata che è stata organizzata augurando la migliore riuscita di tutti gli eventi in programma. Vi saluto davvero affettuosamente scusandomi nuovamente per la mia assenza quantomeno della mia mancata presenza lì però sono vicino a voi nell'arco di tutta la giornata. Grazie ancora.